Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Rete tram resta modificato. Il servizio delle linee 2, 3 e 19. La 2 è su bus lungo tutto il percorso Piazza Mancini, Piazzale Flaminio. La 3 viaggia con tram tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore ed è su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Infine la linea 19 è su tram tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento.